509.000 euro da investire nell'area portuale è la cifra che l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Il Comune ha partecipato a questo bando regionale per la riqualificazione e messa in sicurezza delle aree portuali, ottenendo questo importante finanziamento, grazie al quale sarà possibile effettuare degli interventi di ammodernamento, manutenzione e messa in sicurezza dell'intera area. Gli interventi riguardano l'area portuale sono destinati all'asfalto della strada del porto, alla messa in sicurezza delle banchine, anche per la sicurezza dei lavoratori, poi ci sono altre tematiche di sicurezza, estintori e finalmente una messa a norma e poi c'erano delle cose molto specifiche sulla sala delle aste, sull'informatizzazione anche a livello sostenibile energetico e una macchina del ghiaccio. Mi piace sottolineare che è stato un progetto che ha coinvolto tutti gli operatori del settore, assieme all'assessore Paolini e al sindaco abbiamo coordinato un tavolo, tutte le forze in campo a valutare il progetto giusto da presentare in regione ed è stato un bel lavoro di squadra. Ci ha aiutato anche la capitaneria che ci ha fornito molti dati tecnici, era un bando molto complesso e quindi è stato un buon lavoro di squadra e 509 mila euro per la città di Fano sono veramente importanti.